Oggi è la prima giornata di un percorso che si concluderà in ottobre, maggio, fine settembre di ottobre, con un'altra giornata dove tireremo le solle. Oggi è una giornata diciamo iniziale in quanto il rapporto del Presidente mi ha voluto mettere il punto fermo su quello che ha fatto fino adesso e allargare la discussione tra le parti sociali, sindacati, associazioni, quant'altro, per capire meglio insieme dove nei prossimi periodi fino a fine mandato la Regione possa decidere di maniera coordinata e soprattutto tenendo accetto l'occupazione e l'occupazione del punto centrale. L'economia ha dato segni di ripresa, la formalità, non è positivo, il turismo è crescita, però il tasso di occupazione non cresce così come vi vorrebbe, quindi ci aspettiamo. Quindi vogliamo finalizzare gli interventi nell'ultimo periodo di mandato regionale proprio su quegli provvedimenti, in maniera coordinata, con gli assessorati che possono magari dare un'ulteriore spinta a loro.